Lei ha detto che eviteremo le tendopoli, state davvero facendo di tutto perché questa cosa venga evitata, però stanno arrivando davvero in numero importante nel nostro territorio. Assistiamo a quello che è un fenomeno epocale, chiaramente i numeri li vediamo tutti i giorni negli sbarchi che ci sono a Lampedusa e chiaramente in percentuale le persone che arrivano a Lampedusa devono essere accolte anche sul nostro territorio e quindi sto facendo insieme ai miei collaboratori, a tutti gli amministratori locali, un grande sforzo per evitare soluzioni emergenziali e va da sé che se non si riescono a trovare situazioni e soluzioni alloggiative bisogna pensare ad altro. Come le sembra che stiano reagendo i sindaci, il territorio? No, il territorio e soprattutto gli amministratori, appunto tutti i sindaci hanno dimostrato e dimostrano e continuano a dimostrare un grande spirito di collaborazione perché il modello che io vorrei continuare a portare avanti pur nei numeri importanti è quello dell'accoglienza diffusa per cui più riusciamo ad aprire delle strutture su tutto il nostro territorio provinciale e una migliore accoglienza siamo in grado di fornire anche ai fini dell'integrazione perché non dimentichiamo che l'accoglienza che è chiaramente un obbligo per tutti noi delle persone che vengono da scenari di guerra piuttosto che di estrema povertà e carestia deve però tendere sempre all'integrazione.